Ben ritrovati amici di calciomercato.com da Fabrizio Romano sempre per raccontarvi le trattative nel vivo e quelle che sicuramente diventeranno protagoniste della prossima estate. Tra questi tanti giovani, lo sappiamo bene, tra questi in particolare però il nome tra i più caldi in casa Inter è quello di Andrea Pinamonti, attaccante che ha fatto veramente molto bene quest'anno a Frosinone e l'Inter ha scelto il percorso giusto, un prestito secco in una squadra neopromossa dalla Serie B, ha avuto un'esperienza particolare, Pinamonti al suo primo anno vero e proprio di Serie A ha fatto molto bene in termini di gol, di assist, soprattutto di presenza, ha preso confidenza con la categoria un Inter convinta di avere in casa una pepita d'oro e le risposte di Pinamonti sono state confortanti anche ieri quando l'Inter ha mandato i propri uomini a vederlo contro il Sassuolo, Pinamonti ha fatto un assist, ha convinto gli uomini nerazzurri che con i propri radar lo hanno seguito davvero ovunque, in giro per l'Italia, per avere conferme sul suo talento quest'anno, conferme che sono arrivate. L'Inter adesso per Pinamonti prepara un incontro con i suoi agenti, Mino e Denso Raiola vuole insomma studiare quello che può essere il percorso migliore per un'altra stagione di Pinamonti in Serie A, difficilmente resterà in nerazzurro a meno che il prossimo allenatore dell'Inter, che sia Luciano Spalletti o meno, decida di tenerlo con sé. L'idea è quella di un nuovo prestito, anche il suo entourage spinge per questa soluzione. Prestito o cessione definitiva con diritto di recompra, insomma bisognerà capire quale potrà essere poi la strada migliore ma l'Inter potrebbe salutare nuovamente Pinamonti per vederlo crescere in giro per l'Italia e poi eventualmente riportarlo a casa. Tra i club più interessati c'è sicuramente il Parma, così come il Sassuolo, ma il Parma è quello che sta cercando quel profilo di attaccante e allora attenzione a Pinamonti in quest'orbita, ma tante squadre anche all'estero l'hanno chiesto, Inter che cercherà di capire cosa converrà anche in termini di bilancio, ma di valutazione soprattutto del talento Pinamonti. Prestarlo un altro anno ed è stata fortunata l'esperienza con il Frosinone, oppure andare a cederlo definitivamente per incassare anche qualcosa in termini di bilancio e poi a quel punto ricomprarlo, se Pinamonti dovesse confermare le attese di cui l'Inter è convinta, insomma questa sarà la valutazione, pronto l'incontro, ma Pinamonti convince l'Inter sicura di avere davvero un grande gioiellino in casa. Un saluto da Fabrizio Romano per calciomercato.com, ciao!